Galliano Marchioni rimane con gli amicacci a Bruzzo. L'annuncio ufficiale è dato dalla società giallorossa, reduce dal primo storico scudetto della loro storia. La firma del capitano Giuliese potrebbe essere l'ultima in questo mercato estivo, così da poter iniziare la preparazione nel miglior modo possibile. Con il campionato che inizierà il prossimo 21 ottobre, anche se prima ci sarà da giocare il torneo Ronald Costantini. È stata una decisione abbastanza difficile, legata ovviamente per chi non lo sa, alla nostra attività familiare che abbiamo aperto quest'estate e quindi alla fine siamo riusciti ad organizzarci e adesso pian pianino cerchiamo di rimetterci un attimo in carreggiato. Galliano, è il campionato che riparte il prossimo 21 ottobre, amicacci che quest'anno partirà davanti a tutti, ovviamente reduci dal primo storico scudetto. Sì, è un'emozione, una sensazione che a Giulianova non avevo mai provato. Onestamente credo e spero che questo scudetto abbia portato a un'aria frizzante all'interno della società. Sicuramente può rappresentare un peso, aver vinto lo scudetto, ma mi sento di dire e consigliare sia alla nostra società e sia ai nostri giocatori, che faranno parte dell'organico di quest'anno, di godersi il tricolore dell'anno scorso perché a mio avviso è una cosa che a Giulianova è stata un traguardo storico. E quindi dobbiamo semplicemente continuare a festeggiare, provare a, non dico a ripeterci, ma comunque ad arrivare tra le prime quattro. E poi come l'anno scorso, magari lavorando settimana dopo settimana, magari l'obiettivo si potrebbe anche ripetere.